Truffa ai danni del gestore dei parcheggi comunali, sospesi sei dipendenti della società municipalizzata Amalfi Mobilità. Si sarebbero fatti consegnare direttamente la somma per pagare la sosta del parcheggio, senza quindi inserirla nell'apposita cassa automatica, intascando il denaro e causando alle casse comunali un danno di circa 10.000 euro. L'operazione è frutto di un'attività investigativa avviata a partire dall'estate 2019. Nel mirino delle indagini, il parcheggio situato alla fine del lungomale dei cavalieri ad Amalfi, gli automobilisti avrebbero denunciato più volte come i dipendenti si facessero direttamente consegnare i soldi per la sosta, senza quindi inserirli nell'apposita cassa automatica. Fondamentali nelle indagini sono state le immagini di alcune telecamere di videoserveglianza con cui i carabinieri hanno potuto documentare oltre 300 episodi in soli tre mesi. Dopo aver verificato, mediante l'apparecchio elettronico, che contegge il tempo effettivo di sosta, i dipendenti indagati si facevano consegnare la somma dovuta per il parcheggio dai numerosi turisti che avevano usufruito del servizio invece di inserire il denaro nell'apposita cassa. Già lo scorso 14 ottobre dell'anno scorso i militari dell'arma avevano arrestato un altro dipendente della municipalizzata comunale, un uomo di 65 anni, per lo stesso motivo.